Questo trattato, summa de aritmetica geometrica proporzione et proporzionalità, vi guiderà nell'arte di far di conto e di saperne tenere registro. Tre sono le cose per raggiungere il successo. E' il denaro in contante, e cioè il potere concreto. C'è chi è riuscito a raggiungere il successo senza nient'altro che la propria fede e la propria parola. Veniamo tutti salvati dalla fede. Senza la fede è impossibile servire Dio. Lo volete finito in fretta? Lo volete finito in fretta? Allora fatevelo da voi. Vi lascio dunque con la prima regola della partita doppia. Ogni debito deve avere il proprio credito. Questo trattato può sembrare insignificante. Ma un pellegrino industrioso riuscirà ad applicare le sue regole quando il caso lo presenti. Mi paga abbastanza. Non potrà mai pagarmi abbastanza. Se lui dovesse pagarmi quanto io valgo, non se lo potrebbe permettere. Digli. Molto stimolante, padre. Molto stimolante. Grazie, Dupo. Vogliate scusare il disturbo? Leonardo da Vinci è il suo aiuto. Benvenuto a Milano. Money is not the value for which goods are exchanged.